Ciao e benvenuto a una nuova puntata video podcast di finanza semplice di Alfonso Selva. Oggi parliamo di azioni, eh sì, di azioni, tanto è quello di cui parlo molto più spesso. E devo dire, forse ora è arrivato il momento di proteggersi in borsa. E già, dopo tanto parlare di ripresa, di discesa, di salite, adesso parliamo un po' di protezione. Non vorrei fare la cassandra di turno, ma il mercato azionario mondiale, e soprattutto quello statunitense, sembra salito un po' troppo, in particolar modo un indice. Quando tutto era crollato in marzo-aprile 2020, avevo pensato che come sempre il mercato avrebbe recuperato. Ma, ma, come tutti quelli che onestamente ammettono di non sapere, io non so, non so predire il futuro, non pensavo che il mercato avrebbe ripreso così velocemente. Ora, praticamente, è recuperato tutto dai minimi, anzi, anche un po' di più. Ma, guardiamo a che punto sono i principali indici americani. L'indice Standard & Poor's 500, di pari peso, si trova allo stesso livello di dicembre 2017. L'indice Nise Composite si trova allo stesso livello di settembre 2017. L'indice Russell Small Cap si trova allo stesso livello di luglio 2017. Quindi, non così altissimi, perché, insomma, si trova a livello del 2017, però hanno recuperato molto, 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 in poco tempo. Di solito questo non è una grande cosa, però. E il Nasdaq, l'altro indice famosissimo tecnologico, dove si trova? Eh, oggi il Nasdaq è sopra i massimi di prima della crisi. Quindi, riflettendo chiaramente le aspettative di tutto quello che è il comparto tecnologico, quindi tutti si aspettano, e quello che è successo è che andrà ancora meglio sulla parte tecnologica. Anzi, dai massimi del 14 febbraio 2020, di 9.623, oggi la quotazione del Nasdaq, 23 luglio 2020, quota intorno ai 10.840, con un rialzo del 12.5 circa. Certo, già è tanto, ma così non rende bene l'idea. Da luglio 2017 ha guadagnato il 100%, quindi rispetto agli altri a far raddoppiato, e dal 2013 ha guadagnato il 254% circa. Già così, a dirlo, è impressionante, ma se andiamo ad analizzare l'indice, troviamo delle cose che ci potrebbero far pensare e di cui sarebbe bene tenere conto. Infatti, complici del lockdown, sono entrati sul mercato azionario americano, non solo, ma principalmente su quello americano e del Nasdaq, molti giovani investitori, individuali, non professionali, che hanno iniziato a comprare singole azioni investendo anche i generosissimi sussidi del governo americano. Infatti, si, gli hanno dato molti più soldi che da noi. Ma, appunto, dove sono andati questi soldi? Sono andati in borsa. E questa montagna di soldi si è riversata principalmente su otto titoli. Netflix, che oggi vale 241 miliardi e che a tutt'oggi ha perso 11 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni. Amazon ne vale 1.600, Facebook 700, Nvidia, che è quella che produce le schede grafiche dei computer, principalmente non solo, vale 258 miliardi, Microsoft 1.622, Apple 1.664, Google 1.053, Tesla 2.7 miliardi. Ma siamo sicuri che valgano questa cifra esagerata? Si potrebbero confrontare con altre aziende dello stesso settore, ma molte non ce l'hanno, salvo Tesla, che produce macchine, ma non sono macchine come le altre. Per capire se sono troppo alte, proviamo a calcolare il valore di queste azioni con uno dei metodi più usati per stimare il giusto valore delle società quotate, il PE, il Price Earning, cioè il prezzo dell'azione diviso al suo utile. La media storica usata dagli analisti e studiosi è di 15, quindi eseminiamo il PE di ognuna di queste azioni. Netflix ha un PE di 82, Amazon un PE di 146, Facebook di 33, Nvidia di 78, Microsoft di 34, Apple di 30 e Google di 31. Tesla ha un PE pari a 0, dato che non ha mai pagato gli utili. Seguendo questo ragionamento, che è quello a cui storicamente sono sempre tornate le borse e le azioni di tutto il mondo, scopriamo che queste azioni sono molto sopravvalutate. Ora, non so se lo rimarranno, per quanto tempo, cosa succederà, però questo è un dato di fatto. Un altro aspetto da prendere velocemente in considerazione è che gli ETF, i fondi passivi, che costano poco ma non sono gestiti, azionari, sono quelli e sono sugli indici, come l'indice sul Nasdaq, e le azioni che ho citato sopra rappresentano più del 45% di questo dell'indice del Nasdaq. E quindi, se crollano loro, di conseguenza crolla anche l'indice di riferimento. Il consiglio finale è quello di andare a rivedere il peso percentuale d'assoluto delle singole azioni sul proprio portafoglio, per verificare che la percentuale dedicata all'azionario sia congrua con i propri obiettivi a lungo termine. Ricordatevi sempre, nel lungo termine e nel breve termine può succedere tutto. Calcolate che nel lungo termine l'indice Standard & Poor's 500, che è uno dei più antichi, ha guadagnato una media del 10% all'anno. Una media che vuol dire che gli anni hanno fatto molto e gli anni hanno fatto in perdita. Inoltre, se proprio si vuole sovrappesare la quota di azionario sul totale del proprio portafoglio, è sicuramente più indicato usare i fondi comuni di investimento, ben gestiti, che diversificano in tutte le maniere, geograficamente, per valuta, per comparti azionari, eccetera, e che con la loro gestione attiva possono muoversi liberamente vendendo e comprando le azioni che ritengono più giuste sulla base degli studi, degli analisti, delle persone che lavorano per loro, che sono tantissime e sparse in tutto il mondo. Per aiutarti a interpretare le tue esigenze e i tuoi progetti, serviti di un bravo consulente finanziario, che ti sarà accanto e condividerà con te i tuoi obiettivi di vita, non solo finanziari, ma anche patrimoniali, che è importante, e tu anche tutto il resto. Se vuoi commenta quest'articolo qui sotto, o inviami una email a info-alfonsoselva.it Ciao e alla prossima!